Che idea ti sei fatto, sia di quello che hai a disposizione, sia di dove si può migliorare sugli uomini che hai a disposizione? Diciamo che ci sono dei margini che secondo me ci sono sicuramente da migliorare, però anche una squadra che per determinate caratteristiche è un po' una coperta corta, quindi va un po' girata da una parte all'altra. Io credo che però ci sono dei giocatori dentro importanti, credo che si possa fare sicuramente meglio di così, credo anche che però vada ritoccata sicuramente. C'è qualche intervento che serve? Quello in tutte le squadre, anche nella nostra sicuramente qualcosa è da fare in determinati ruoli, però complessivamente è una squadra che può rendere di più di quello che sta rendendo. Domenica la prima vera neanche azione, la palla che è passata, siamo andati sotto. Una squadra che viene da un periodo negativo c'è un ancoraggio psicologico difficile da ovviare, però dobbiamo assolutamente farlo perché altrimenti è un ingorgo che ti tira sotto. Noi questa cosa qua dobbiamo vincerla, dobbiamo vincerla da uomini e dobbiamo vincerla da professionisti. È una grandissima sfida e va fatta e con il lavoro io credo che si possano sicuramente migliorare e poi se non ci si riuscirà ci scenderà sul mercato. Non possiamo aspettare. La nostra non è una squadra, non è una squadra che può aspettare facilmente o per molto tempo un giovane che si deve proporre, deve cominciare a camminare con le proprie gambe. Perché c'è un popolo alle spalle, c'è una città, ci sono delle aspettative, comunque sia che tu giochi a Trieste non puoi mai dire se hai gioco per salvarmi oppure non gioco per vincere. Ci sono delle piazze a Trieste, Padova, Vicenza che comunque sai che quando vai lì devi aspettarti determinate cose. Devi alzare il tuo livello ed è una grande crescita. Vale per i giocatori, vale per gli allenatori, vale per i giovani che devono camminare in fretta, vale per quelli che scendono di categoria che molto spesso magari pensano di poter venire e gestire con una certa sedia e così non è mai stato fin da quando giocavo io. Mai.